I dati Istat sono importanti un po' per tutti, nel senso che comunque sia danno una situazione andamentale e quindi riguarda un po' tutti noi. In un mondo che corre rapidissimo è chiaro che il dato non può essere un dato vecchio, altrimenti serve poco o nulla, serve un po' come il bilancio per l'azienda, più che il bilancio passato serve la prospettiva futura, quindi anche i dati devono essere in tempo reale, è importante capire la tendenza di tutti i parametri, la crescita del PIL, la crescita della produzione, la crescita dell'export, per chi fa impresa sono dati fondamentali questi.